Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 24 gennaio, Soleil Sorge stava spiegando per l'ennesima volta la natura del suo rapporto con Alex Belli, quando dalla regia è partito un grido inequivocabile. La puntata del Grande Fratello VIP trasmessa lunedì 24 gennaio, ha visto andare in scena l'ennesimo confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il triangolo che, fino a qualche settimana fa, riusciva a suscitare ancora qualche interesse, ora sembra infastidire persino il conduttore Alfonso Signorini. Spazientito dai discorsi cerchiobottisti dell'attore, prima gli ha chiesto di spiegare con chiarezza cosa sia per lui l'amore libero, poi vedendosi continuamente interrotto lo ha invitato a lasciare lo studio. Se la situazione in diretta era tesa, anche dietro le quinte non era da meno. Mentre Soleil Sorge tentava di spiegare la natura del suo rapporto con Alex Belli, ha intercettato le urla della regia. Soleil Sorge stava spiegando ad Alfonso Signorini la natura del suo rapporto con Alex Belli e il contenuto della lettera che ha fatto avere all'attore, infilandola nella tasca della giacca di Giacomo Urtis. Alfonso Signorini la ascoltava con attenzione, quando in un momento di silenzio dalla regia è partito un sonoro, e va fan asterisco ulo. Soleil Sorge, in un primo momento, è rimasta completamente spiazzata, poi tutti i concorrenti sono scoppiati a ridere.